Si sono messe in gioco in uno spettacolo di prosa e di canto. Sono donne, mamme, mamme di alunni dell'Istituto Falcone Scauda di Torre del Greco, nel segno della sinergia tra scuola e famiglia. L'evento conclusivo di due percorsi PON di contrasto al fallimento formativo si è svolto lunedì pomeriggio al Teatro Magma di Torre Annunziata. Non è la prima volta che la scuola realizza percorsi formativi rivolti ai genitori. È difficile, perché la parola, dopo, ma parlare di spettacolo vuol dire sminuire la vulgarità di queste donne, di noi donne, di noi persone, che è una quotidianità densa, piena. Ho la fortuna di riconoscere tutte e una persona. E quindi questo loro rappresentarsi mi ha emozionata o pianto, perché rappresentare la vita in tutte le mille sfaccettature, decimila, milioni di sfaccettature, non è facile. Ma, siccome non è facile affrontare dei lavori di amità che io mi ritrovo per loro credo molto nella sinergia tra scuola e famiglia. Ha ribadito la dirigente scolastica Maria Iosè abilitato, visibilmente emozionata e commossa, al termine dello spettacolo. Ritengo che la corretta formazione degli alunni debba partire proprio dagli adulti, quindi dai loro genitori. E' vero, io credo molto nel lavorare con i genitori. Io credo che sia fondamentale innanzitutto sintonizzarci noi adulti per poter dare il meglio. Le mamme sono state guidate nell'allestimento teatrale dall'esperta psicologa Alessandra Foroncelli Nicolau, con la docente tutor Maria Poli, e nell'esecuzione dei cori dal maestro Carlo Manguso, che ha curato anche gli arrangiamenti musicali, e dalla tutor Maria Immacolata Fusco. L'opera teatrale ha preso spunto da brani contenuti in un piccolo libro, scritti sempre dalle mamme, nell'ambito di un progetto realizzato lo scorso anno sul bullismo. Storie personali fatte di difficoltà quotidiane nel conciliare il ruolo di madre, moglie e donna lavoratrice. Il pubblico ha seguito con interesse e commozione lo spettacolo, tributando alle neoattrici calorosi ed entusiastici applausi, con l'auspicio che si possa replicare ancora.